ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi andiamo a vedere un cinturone ossia il field belt mk2 della sotgear questo cinturone è composto completamente in cordura a mille denari viene prodotto nelle colorazioni nero hcs vegetato italiano e questo qua soprattutto che il cry multicam nella parte esterna possiamo vedere tutta una serie di passanti molle che permettono di andare a alloggiare chiaramente tutta una serie di tasche come più riteniamo comodo nella parte interna invece abbiamo questo cinturone d'altezza 5 cm con il clip frontale in plastica il cinturone interno completamente regolabile per tutte le taglie la struttura interna molto rigida ne favorisce comunque un buon carico senza però andare a sbilanciare eccessivamente e rendere scomodo il cinturone ma andiamo a vederlo un pochino meglio nel dettaglio benissimo ragazzi andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio il cinturone allora come potete vedere l'altezza del cinturone è ridotta al minimo infatti è stato disegnato apposta in questa maniera per andare a ridurre al massimo l'ingombro appunto il cinturone stesso infatti ha solo due file di passanti molle cos'hanno di particolare questi passanti molle che nella parte posteriore come potete vedere sono ci sono queste cinque colonne normali quindi con il normale passante mentre sui laterali di qua e di qua come vedete si sono sì i passanti molle ma sono stati cuciti in questa maniera proprio per andare a dar la possibilità oltre di fissare normalmente le tasche come già detto con il normale passante molle permette di andare a tirar fuori quindi fare uscire il cinturone interno solo in una determinata sezione dei passanti in maniera da poter andare a fissare comodamente anche tutte quelle tasche o accessori o fondine o quello che che più interessa che non ha la predisposizione per il passante molle un esempio se io avessi la fondina classica che ha l'aggancio per il passante molle la vado agganciare normalmente sui vari passanti ma se io avessi una fondina che non ha questo tipo di aggancio io appunto vado a sganciare il clip in plastica centrale vado a far scorrere completamente tutta la cinghia all'interno andrò a tirarla fuori tramite queste sezioni di appunto passanti molle che ne permettono l'uscita anche solo in una piccola parte e appunto per poter andare ad aggiungere tutte quelle tasche accessori e quant'altro che non abbiano la predisposizione scusate per il passante molle veramente veramente comodo appunto per andare a rendere più utile possibile e comodo settabile e utilizzabile il nostro cinturone fibia interna cinturone interno di 5 centimetri che scorre completamente da una parte all'altra quindi può essere sfilato regolato in tutte le maniere che si vuole ha già gli elastici apposta per andare a diciamo dare più ordine quindi a rotolare l'eccesso di laccio utilizzato clip centrale in plastica molto resistente mentre nella parte interna possiamo vedere che è composto da tutta questo tessuto in air net che ne permette appunto la traspirazione quindi impedisce la sudorazione al massimo in più nella parte interna come potete vedere c'è tutta questa fascia velcrata che velcro femmina chiaramente che permette di andare a fissare il cinturone direttamente sulla cinghia che viene data chiaramente questa qua che questa qua viene fissata sui pantaloni e andrà ovviamente a bloccarsi direttamente sopra quindi il cinturone fissato sopra andrà a mantenere perfettamente la posizione questo modo di fissare il cinturone è stato studiato apposta per renderlo più aderente possibile al corpo e appunto per darne un maggiore comfort nei movimenti e anche comunque a pieno carico carico comunque perfettamente distribuito e mantenuto dalla struttura interna del cinturone infatti tutto il cinturone è strutturato internamente con una parte più rigida che permette appunto di caricare il cinturone senza andare a diciamo ridurre il comfort e impedire che sia cartocci o sia pallottoli passatemi il termine come si vede in in altri cinturoni quindi un cinturone comunque comodo anche se utilizzato a pieno carico con tante tasche bene ragazzi io vi ringrazio di avermi seguito ci saranno tantissimi altri video seguitemi perché andremo a vedere questo cinturone più l'altro completamente settato con le varie tasche per qualunque commento lasciatelo qua sotto se avete domande fatele senza problemi un like ben accetto e vi ringrazio di avermi seguito ci vediamo un prossimo video grazie ragazzi e alla prossima